Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in Veneto. Non vi nascondo che prima quando ho visto la fila fuori dall'auditorium è stata una grande emozione per il grande lavoro che abbiamo fatto in questi mesi insieme al coordinamento nazionale per rendere questo evento importante. La cosa più bella è vedere la sala gremita, vi assicuro che da qui c'è una visuale pazzesca. Oggi mi è stato affidato un compito importante, quello di aprire i lavori di questa dodicesima assemblea che sono onorato si svolga in Veneto, in particolar modo a Treviso, una città d'arte e uno dei nostri sette capoluoghi di provincia della nostra meravigliosa regione. Quando Luca Baroncini, il nostro coordinatore nazionale e il coordinamento nazionale hanno scelto il Veneto, quindi Treviso, quale location di questa assemblea mi sono commosso perché è la prima volta che il Veneto ospita l'assemblea nazionale dei giovani amministratori e questo ci riempie di orgoglio. Per questo voglio dedicare qualche minuto del mio intervento ai ringraziamenti, mettendoli al primo posto. In primis grazie Luca, grazie Luca Baroncini, grazie al coordinamento nazionale, a tutta la struttura di Anci per aver realizzato questa meravigliosa occasione di confronto. Grazie poi al sindaco Mario Conte, a tutta la squadra del comune di Treviso che ci ha ospitato, grazie ovviamente al presidente De Caro e a tutta la parte politica e attiva di Anci, grazie alla regione del Veneto, grazie a quelli che è difficile ovviamente citare ma vi assicuro che per un evento così bello sono davvero tanti. grazie ai rappresentanti del governo, in particolar modo al ministro qui presente, che con la loro presenza dimostrano di essere al nostro fianco, al fianco dei comuni italiani e soprattutto dei giovani amministratori. Un grazie speciale e penso siate d'accordo con me e merita anche un applauso va a Rossella Macchione che è il pilastro della nostra Anci Giovani e delle politiche giovanili di Anci e un grazie va a tutti voi perché avete preso la valigia, siete partiti da ogni parte d'Italia e oggi siete qui insieme a noi. L'assemblea nazionale di Anci Giovani è l'evento più importante per i giovani amministratori, più importante dell'anno perché ci offre un'occasione che non è scontata e quindi uno spazio di confronto tra di noi con tutti coloro che sono impegnati a guidare le proprie comunità. Ma quest'anno l'assemblea ha una funzione ancora più strategica perché, come dicevamo prima nell'introduzione, è l'evento principale che Anci organizza in collaborazione con il Dipartimento delle politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione dell'anno europeo dei giovani 2022 e dell'anno europeo delle competenze 2023. In questi mesi abbiamo parlato tanto dei problemi delle nostre comunità, dal caro energia alla messa a terra dei fondi del PNRR, alla carenza di personale, passando per il problema dei segretari comunali soprattutto nei piccoli comuni. E sono convinto che potremmo stare qui delle giornate intere per continuare a parlarne. Ma oggi dobbiamo parlare di noi perché è arrivato il momento di parlare dei nostri bisogni, delle nostre difficoltà e del nostro impegno. Indossare la fascia tricolore, e quindi non vale solo per i sindaci ma anche per gli assessori e consiglieri comunali, ha un peso enorme. Se fare l'amministratore non è facile, fare il giovane amministratore è ancora più difficile. E voglio usare una frase di Luca Baroncini, il nostro coordinatore nazionale al congresso del CNG, quando ha detto che un sindaco di 27 anni ha le stesse responsabilità, gli stessi problemi da risolvere di uno di 58 anni, anzi ha qualche pregiudizio in più da vincere. E mi permetto ovviamente di aggiungere non solo un sindaco. Ci siamo abituati, o forse non ci abitueremo mai, alla frase sei troppo giovane per fare politica, hai un futuro davanti e domani toccherà a te. In realtà domani probabilmente toccherà a noi, ma noi ci siamo anche oggi e noi c'eravamo anche ieri. I giovani amministratori sono parte del presente della società e come dice la nostra Assemblea noi siamo l'Italia. C'è un dato importante da non sottovalutare. Noi giovani siamo sempre di meno, noi giovani amministratori. Ci sono sempre meno giovani che si candidano alla guida delle nostre comunità e sempre di meno che si appassionano di politica. E allora non è forse compito della politica accrescere, lavorare per accrescere la partecipazione alla politica stessa? In questi anni sempre più giovani come noi si sono lasciati trascinare dalla delusione e hanno deciso di abbandonare il campo. Vi è una diminuzione di persone che si interessano alla politica e in modo particolare alle comunità locali. I cittadini e i giovani sono lontani e questo per me è un grande problema. È un problema per la democrazia perché da qua in futuro avremo una classe dirigente che se continua così sarà fatta solo di pensionati. Mi è capitato spesso di farmi una domanda, immagino sia capitata anche a voi, me la faccio ogni giorno quando vado in comune. Chi me lo fa fare? Ebbene sì, essere un giovane amministratore vuol dire fare molti sacrifici. Noi siamo quelli che rinunciano agli studi, siamo quelli che una volta eletti spesso sono costretti ad abbandonare il lavoro perché l'impegno della comunità è gravoso. Siamo quelli che trascurano gli amici e la famiglia per dedicare tutto il nostro tempo ai concittadini. Siamo quelli che non hanno i contributi pagati perché fare politica non è un lavoro. Siamo quelli che per saper rispondere ai nostri concittadini investiamo il nostro poco tempo libero sulla formazione. Siamo quelli che non si arrendono mai, neanche davanti alle lamentele di chi ci ritroviamo ogni giorno davanti alla porta del comune a chiedere il nostro aiuto. Noi però siamo quelli del coraggio, siamo quelli della passione, dell'impegno. Noi siamo l'Italia. Ecco perché oggi siamo qui per parlare di noi. Perché abbiamo bisogno di uno Stato che creda in noi, abbiamo bisogno che venga valorizzato il merito in politica, abbiamo bisogno che il nostro patrimonio di passione e impegno venga sostenuto, altrimenti andrebbe disperso. Per questo voglio ancora una volta ringraziare il Governo che oggi è presente, dando un grande valore al nostro lavoro. E c'è un ultimo grazie che ho voluto tenere per ultimo, ma non perché sia meno importante degli altri, ma perché è importante per me ed è importante per noi. Voglio ringraziare la squadra di Anci Giovani Veneto che mi ha affiancato fin dal primo giorno del nostro mandato, nel 2019, in questa bellissima esperienza. Loro sono quelli che mi hanno accompagnato fin dal primo giorno del congresso, sono stati presenti al nostro numeroso lavoro che abbiamo fatto in questi anni, alle numerose videoconferenze durante la pandemia. Sono quelli che hanno organizzato il primo progetto di formazione in videoconferenza, dove molti di voi hanno partecipato, che si chiama Formazione Comune, e che ha ottenuto oltre 2.000 partecipanti. Gli facciamo un applauso. Mi avvio la conclusione. Noi, come voi, siamo qui perché pensiamo che amministrare sia la cosa più bella del mondo. Mi piace definirla una missione per l'Italia, perché per me amministrare è mettersi al servizio di una comunità. Noi, come voi, siamo qui perché crediamo che sul nostro percorso abbiamo trovato e continueremo a trovare molti ostacoli, ma il coraggio sarà più grande della paura. Noi, come voi, siamo qui perché crediamo che solo unendo le nostre forze, il nostro coraggio e il nostro impegno, potremmo trasmettere ai giovani la passione per questa missione al servizio dell'Italia. E allora non mi resta che dire mettiamoci al lavoro tutti insieme, nella grande famiglia di Anci che ci offre questa bellissima opportunità, perché i nostri concittadini ancora una volta hanno bisogno di noi. Grazie a tutti e buon lavoro.